Amici di Serie C, TV e Eleven Sport, buonasera da Piero Giannico e benvenuti allo stadio Garilli per Piacenza-Pisa, gara valida per l'anticipo dell'undicesima giornata del Pisa. Questo lancio lungo verso Eusepi che entra in aria, corpo a corpo con un avversario, ancora Eusepi prova a girarsi, Eusepi prova il rimorchio con De Vitis, la parata, poi non trattina il portiere e arriva il gol di Masucci ma viene annullato per fuori gioco. Cercare l'aria piccola, vediamo Giannone, mette la palla, tagliata, ancora Mannini al volo. Mora, attenzione c'è Segre, Segre punta alla porta, Segre, Morosini, poi il colpo di testa, gara, diciamo corretta fino a questo momento un solo ammonito, poi la triangolazione che si chiude, attenzione Nobile, entra in area Nobile, 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 ancora Nobile, la palletta. Palla nella media di rigore, il colpo di testa, la parata di Petkovic. Guker palla il piede, piattone verso il giocatore Giannone, sulla fascia c'è Mannini, ignorato, ancora Guker dalla distanza, poi non ci arrivano i giocatori della Pisa. Ancora Eusepi dall'altra parte, c'è Mannini, poi c'è De Vites, il cambio da cercare è Giannone, che controllo di Giannone, è largo, c'è la corsa di Filippini, il colpo di testa! Giannone, prova il tiro in porta! Asciangelo va in sottoposizione, Morosini, cerca il tiro in appoggio. Il tabellone luminoso. E arriva adesso il tripice fischio finale. Al prossimo episodio. lost. Grazie a tutti.